Da forcella al mercato, dall'annunziata alle fontanelle, le domeniche di primavera a Napoli saranno all'insegna della musica e della letteratura e la rassegna Restituzioni, rubrica napoletana, curata dall'assessorato alla cultura e al turismo, che vede il coinvolgimento del maestro Michele Campanella e dello scrittore Maurizio De Giovanni. Una congiunzione astrale di due stelle del nostro firmamento culturale, due grandi napoletani, il nostro scrittore credo oggi più famoso e più letto in Italia e in Europa, è uno dei più grandi musicisti del mondo, due napoletani di cui siamo orgogliosi e fieri e che gratuitamente in questo progetto che si chiama Restituzioni racconteranno con la loro arte la bellezza di Napoli, dei luoghi e anche della gente. Gli appuntamenti alle 11 e ad ingresso gratuito prendono il via domenica prossima 10 aprile in Piazza Forcella, poi il 17 nella chiesa di San Giovanni a Mare, il 24 al cimitero delle Fontanelle ed il 5 giugno nella sala delle colonne del complesso dell'annunziata. Cominciamo dallo spazio comunale di Piazza Forcella in cui è in corso, credo, uno splendido lavoro attraverso l'arte e la cultura per conquistare le coscienze al progresso civile, alla vita democratica collettiva. Nella biblioteca Analisa Durante, nello spazio dove vi sono tanti laboratori, dove vi è la bellissima esperienza di Marina Rippa con Femminile Plurale. Ecco, questo primo concerto l'idea dei due grandi protagonisti è di dedicarlo appunto a un popolo in cammino. Questa bella esperienza perché Don Angelo, il parroco di Fercella, è diventato anche coordinatore dei parroci di questo progetto. Quindi questo è il senso di questa bellissima iniziativa, raccontare la bellezza di Napoli attraverso i suoi luoghi, ma anche la bellezza della sua umanità.